La donna inglese Michelle Fiers, di 66 anni uccisa ad ottobre scorso a Casoli in provincia di Chieti, sarebbe stata colpita da nove coltellate tra la schiena e il torace con conseguente shock emorragico e quanto emerge dall'autopsia sul corpo della donna trovato lo scorso primo novembre nel suo casolare in Contrada Verratti. Del delitto è accusato il convivente della donna, Michael Withbread, 74 anni, fuggito in auto in Inghilterra dove è stato arrestato. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Pietro Falco all'ospedale di Fermo. La donna sarebbe stata uccisa dopo un ultimo litigio mentre si trovava distesa a letto. I colpi sono stati sferrati dall'alto verso il basso. La donna ha cercato di difendersi tanto da avere ferite sull'avambraccio e alle mani, forse per tentare di fermare le coltellate. Uno dei fendenti è stato fatale perché le ha rotto una costola che le ha perforato il polmone e reciso la orta toracica. Le conclusioni della perizia dovrebbero arrivare entro 90 giorni. L'omicidio è stato fatto risalire alla notte tra il 28 e 29 ottobre scorsi. Michael Withbread, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di convivenza, ha negato qualsiasi addebito. Il 7 dicembre si terrà la seconda udienza davanti ai giudici di Londra per la richiesta di scarcerazione. Il 26 febbraio del 2024, invece, si terrà l'udienza per discutere l'estradizione chiesta dalla procura di Lanciano.